corazzato nemico danneggiato gli abbiamo dato fuoco corazzato nemico danneggiato aiuto Smetti di avanzare! Centrato! Bel colpo! Centrato! Abbiamo un cingolo danneggiato! L'abbiamo preso! Centrato! Li abbiamo danneggiati! Non lo abbiamo bucato! Non lo abbiamo più. Abbiamo scenduto dove si autentano l'acqua nelle mani sollevo. Non lo abbiamo più. L'acqua pi accendendo le mani sollevano le mani sollevano le mani sollevano. È stato spesso! Corso! 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 Grazie a tutti. Abbiamo perso un cingolo. Siamo fermi. Ripartiamo. Disposto per coprirti le spalle. Dei trattos! Ripartiamo. 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 Cambio posizione per dare supporto. L'abbiamo preso! Li abbiamo appena aggrappiati! Mi chiedo supporto alla mia posizione. I'm going to support you. Te ne sono grato. Bel colpo! L'abbiamo preso! Abbiamo perso un singolo! Siamo fermi! Preso! Muoversi! Muoversi! Bel colpo! Ma di qua! Multi runeZa! La volante! Poi! L'abbiamo! Un'altra cosa! Un'altra cosa! Un'altra cosa! Un'altra cosa! Abbiamo preso! L'altra cosa! È un'altra cosa! Abbiamo preso una volta! Abbiamo presi! Prezzo! Li abbiamo danneggiati! Bel colpo! Corazzato nemico distrutto! Corazzato nemico distrutto! Corazzato nemico distrutto! Corazzato nemico distrutto! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.